all'olipico live raccio nella finale gurentina inter coppa italia 2023 prescia rossa cazzo c'è solo la cosa da fare riportare un problema a firenza dopo 23 anni sempre la settima coppa italia bisogna vincere atmosfera meravigliosa forse iscrivetevi lasciate un bel like e in botta l'uomo forza 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 bravo 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 forza 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 bravo 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 subito bravo 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 guardata da Noi ci siamo in crisi Difesa di merda! Che difesa di merda! Cazzo! Che difesa del cazzo! Che difesa di merda ci siamo ragazzi! Cazzo! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.